Siamo a Baratti con Alberto Ingrassia che ha scelto per la sua vita il mare. Come è successo? Una scelta un po' sofferta, sono andato in montagna, a 16 anni ho deciso di partire, sono finito a Napoli, un collegio militare proprio sul golfo di Napoli, quindi ho passato tre anni della mia vita affacciato sul golfo di Napoli che è una cosa meravigliosa, sopra il Castel del Lovo e lì ho cominciato a sentire questo richiamo. Poi l'interformativo mi ha portato due anni a Modena, poi due anni a Torino, poi sono stato trasferito per lavoro a Firenze per dieci anni però insomma mi stava un po' stretto. Poi a un certo punto ho fatto ancora un anno a Civitavecchia anche lì sul mare e lì poi ce l'ho fatta più. Sono tornato a Firenze, ho detto basta non è più il mio mondo, ho mollato quello che facevo e mi sono dedicato anima e corpo a questa nuova vita sul mare. Ma è stata una scelta importante, l'abbandono di un qualcosa di molto... Sì, perché ho sacrificato vent'anni di vita militare, ho abbandonato tutto per riavviare una nuova attività sul mare. È stato sofferto già la decisione di mollare tutto quanto, insomma, via. Non è stato facile poi ripartire perché avviare un'attività da zero comunque non è semplice. Ma c'era un grande amore per il mare? Sì, 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 non avrei potuto fare nient'altro. Io negli anni quando si andava in vacanza era comunque un luogo di mare, era comunque un luogo con gli scogli, ci doveva essere comunque la possibilità di fare lo snorkeling, il bagno col gommone, le passeggiate, un po' di pesca, insomma. Comunque bisognava star al mare. Ma non il mare da spiaggia, da ombrellone? No, io sono anche allergico, cioè a me la sabbia, tutta la sabbia, i moscerini, i bimbetti, per l'amore di Dio, ho un figlio l'anch'io, però questi bimbetti intorno all'ombrellone, gente si rosola, non va... No, no, il mare va vissuto in mare. Il mare è questo che abbiamo dietro, questo mare oggi è abbastanza mosso. Ora questo, bello, perché il mare poi non è sempre solo calmo, normalmente si associa il mare all'estate, il mare calmo, l'acqua limpida, sole, spiaggia. Il mare è bello anche d'inverno, quando non c'è nessuno, le giornate calme e invernali sono meravigliose, insomma, per pochi intimi, però assolutamente più godibili del ferragosto canonico, quando troviamo due miliardi di persone in un centimetro quadrato di spiaggia, insomma. Il mare è sempre, si può vivere sempre. Il mare va vissuto sempre, sicuramente, beh, d'estate siamo obbligati, perché noi siamo educati ad andare in vacanza tutti quanti insieme ad agosto, luglio, agosto, quello e basta, insomma. In realtà è sbagliato, la costa si svuota d'inverno, un pasino, San Vincenzo, Baratti, qui non c'è nessuno, oggi parcheggi dove vuoi, d'estate se non arrivi alle 7 da mattina non ti metti, però è bello anche oggi. E si può andare a viverlo sott'acqua sempre? Sopra, sotto, sempre, sempre. Quando è agitato va rispettato, perché poi il mare quando si arrabbia è un... Quando uno ci vive poi in mare, si accorge che non è una pozza d'acqua messa lì, insomma, il mare è vivo e ha i suoi umori. Quando è calmo e disposto ad accoglierti, te lo godi facendo il bagno, la nuotata, un giro a vela, un giro in gommone, immersione, poi ci sono tutti gli sport acquatici. Quando poi invece si arrabbia bisogna mettersi un angolino e aspettare che gli sbolla, perché non è che si può... E quanto è complicato conoscere il mare? È complicato, è complicato perché, prima di tutto, si rischia di farsi del male. E la sicurezza propria, quella delle persone che eventualmente porti, va davanti a tutto. È meglio rinunciare una volta a un'uscita per lavoro, piuttosto che rischiare poi di trovarsi in mezzo al mare. Poi il mare negli ultimi dieci anni è cambiato tantissimo. Dieci anni fa arrivavi sul porto la mattina, guardavi e dicevi, vabbè, oggi tranquillo, si lavora. E lavoravi bene. Poi c'erano dei segnali che uno piano piano imparava... Tutte cose te le insegnano i pescatori, cioè non è che uno si sveglia la mattina, come si dice, nasce imparato, insomma. Allora fai amicizia con i pescatori, paghi vino bianco, il bianchino al bar, ma... Allora ti insegnano, ho capito piano piano questa cosa, loro escono alle quattro la mattina, alle sei rientrano con le reti da ripulire per la vendita del pescato la mattina e poi quando ti arrivi sul porto, che fai colazione, loro in realtà sono già un pezzo avanti. Allora ti insegnano, ci vedi, c'è il mare, arriva lo scirocco, il mare così, allora sotto costo è più limpido, a largo invece è brutto, poi invece oggi è maestrale, allora non si può... e piano piano poi impari a interagire con questi personaggi che sono particolari, loro cominciano a trasmetterti tutta questa conoscenza enorme che hanno del mare e poi anche perché dopo dieci anni, se non ho imparato, insomma, sarà bene. Quindi non è solo natura, ma è anche incontro con le persone. Assolutamente sì, cioè ci sono dei personaggi qui in giro che sono delle cose fenomenali, cioè ovviamente bisognerebbe organizzare delle trasmissioni su questi tipi di servizi, su questi personaggi qua, gente che li vedi, potrebbero sembrare senza offendere nessuno, degli ubriaconi al bar e invece scopri che è gente che per 60 anni che va in mare e che ti racconta vita, morte e miracoli di tutto, magari hanno assistito durante la seconda guerra a affondamento di navi, stiamo lavorando anche su un libro, su delle cose un po' particolari, ci sono degli eventi storici importanti su San Vincenzo e qui in zona, insomma, sono stati testimoni di affondamenti, cioè questi ti raccontano che quella notte sono partiti perché hanno sentito le esplosioni, sono partiti tutti di corsa per andare a salvare gli equipaggi delle navi, insomma, e ci sono questi personaggi un po' caratteristici che sono interessanti. Sono una ricchezza. Assolutamente sì, da preservare, da conservare assolutamente, insomma, da valorizzare. E anche il mare però rischia di essere minacciato dall'uomo. Qui è un pasticcetto adesso perché, insomma, l'economia globale ci impone di aggiornare porti, di costruire sempre roba nuova, sempre aggiornati i servizi, tutto rivolto al cliente, però si perde tutto quello che è il contatto con la natura. Cioè Baratti è rimasto un gioiellino, ora io non so per quanto tempo potrà rimanere ancora così. A San Vincenzo prima c'era un bel porticcioletto, era caratteristico, tutto fatto in pietra, c'erano le barche dei pescatori, poca nautica di porto, adesso è diventato un porto turistico, commerciale, cioè è rivolto alla nuova utenza. Qui a Baratti d'inverno restano i negozi dei pescatori, ci sono gli appassionati che continuano ad andare in mare, ma è questa la realtà del mare, non è il turismo esasperato d'estate, però c'è anche un'economia da mandare avanti. Magari il bello è che ci si innamora di un posto perché in un certo modo e poi... è vero, si cerca di fare ognuno il suo piccolo, bisognerebbe insegnare, tramandare queste conoscenze, quest'amore per il mare a chi viene dopo. Bisogna imparare a guardare insomma. Esatto, cioè chi fa una scelta di vita, che smette di lavorare in città perché va in pensione, perché si è stufato del suo tipo di vita o quant'altro, e si avvicinano alla qualità nuova, può essere il mare, può essere anche la montagna, perché tutti e due vogliono il rispetto, e si avvicina con umiltà, cioè con la voglia di imparare, di conoscere, esatto, scopre un mondo esagerato. Io ho tanti amici a San Vincenzo che avevano la seconda casa e ne fruivano nel periodo estivo, poi sono andato in pensione, vieni una volta di più, alla fine sono trasferiti al mare, perché? Perché il mare d'inverno è decisamente più bello e più godibile, l'estate c'è troppo, troppo boggia, troppo commerciale, non ci siamo più. Quindi non solo seconda casa, ma anche seconda vita? Assolutamente sì, assolutamente sì, cioè non c'è confronto tra la qualità della vita in una città rispetto a quella di un paesino, o comunque una cittadina sulla costa insomma. E il tuo lavoro in che cosa consiste? Il mio lavoro, io ho una scuola di sub da 12 anni ormai. Che cosa hai visto in questi 12 anni? Di tutto di più, si è cominciata a lavorare con dei gommoni, poi il gommone è troppo commerciale perché diventa un autobus, gli orari fissi, dovete arrivare a quell'ora, allora ho mollato la parte dei gommoni e ho provato con una barca. Con una barca però fai un lavoro diverso, mentre col gommone porti le persone, devi portare tante e devi fare dei grossi numeri per poter avere un utile, con la barca offri un servizio, cioè vendi una giornata in mare. Allora fai salire in barca 6, 7 persone, 8 persone, gli offri una giornata in mare, si parte la mattina alle 9 e si rientra alla sera alle 6. Hai fatto il pranzo a bordo, hai fatto il bagno, non è necessario andare per forza sott'acqua, cioè non vendi più l'immersione. Vendi una giornata in mare, allora scopri tutto quanto un altro pianeta, perché ti sposti, vai sotto costa, vieni a Baratti, vai a Bucadele Fate, ti fermi dove c'è il mare poco profondo. Conosci il mare. Conosci il mare decisamente. Poi viaggiando con una barca, che viaggia decisamente più piano di un gommone, allora scopri tutto un altro mondo. Un gommone viaggia a 40-50 km l'ora, una barca viaggia a 10-12 km l'ora. Quindi stai tranquillamente sdraiata a prendere il sole, ti guardi il panorama, allora trovi, vedi i delfini, il branco di delfini riesce ad avvicinarti piano piano ed è un'emozione enorme riuscirti ad avvicinare. Quando passi col gommone non li vedi. Attraversi il canale di Piombino per andare all'elba trovi le tartarughine di mare piccoline, poverine, allora bisogna andare più piano perché se qualcuno non le vede allora poi le mettono sotto, muoiono tutte, allora ti metti lì e gli fai scorta finché non hanno passato il canale. Trovi, ora tanti anni fa abbiamo visto anche una tartaruga agliuto che è una rarità enorme, due metri di lunghezza, una bestia enorme, un'emozione enorme, meravigliosa, tutti eccitati, tutti impazziti, fare foto a questa ingommone non l'avremmo vista, capito? Quindi sei anche una guida del mare? Assolutamente sì, bisogna educare tutti. Cioè chi, il cittadino, ora passatemi il termine, insomma, il turista che viene non può fruire solo della spiaggia e del bagno in sé stesso, deve innamorarsi del mare perché se si innamora allora poi lo rispetta, ritorna, lo rispetta e tramanda quest'amore anche alle altre persone. Se ci limitiamo a fare una rimini del mare, cioè discoteche, divertimenti di spiaggia eccetera, la gente viene, ne fruisce ma si sfrutta e basta. E affera di sfruttare poi lo depauro di tutte le sue ricchezze. È un lavoro che ha anche un innamoramento il tuo? Eh sì, è. Questo ha voluto dire la scelta. Sì, è un lavoro che non puoi fare razionalmente. Qui non ti puoi alzare la mattina e dire vabbè adesso vado, mi tocca andare, non puoi, capito? Cioè è tanta fatica, tanta fatica fisica per organizzare, tanto impegno mentale e concettuale per tutti gli aspetti fiscali, economici, onerosi eccetera eccetera. La parte più difficile è quella di insegnare però rispetto dell'ambiente italiano. Ci riesci? Ma io penso di sì. Penso di sì perché quelli che una volta erano clienti, che poi sono diventati amici, cioè continuano a tornare di anno in anno. Ormai sono dieci anni che ci sono i sub della prima ora, insomma gli amici del primo anno che poi sono tornati, ci hanno portato i figli, ho fatto il corso di sub ai figli, ora poi vengono con le fidanzate, insomma. Quindi non incontrano solo Alberto ma incontrano un mondo. Un amore di mare, un amore, sì, un mondo nuovo. Sono contento quando mi chiamano, perché poi non sono solo italiani, meno male. Ora, ultimamente il turismo sono ritornati gli olandesi per esempio. Io ho tanti amici olandesi che a gennaio e febbraio cominciano a scrivere, ora poi ci sono tanti mezzi, internet non costa più nulla, quindi le mail, i filmati, le foto ci si scambiano bene. E già a gennaio e febbraio cominciano a dire no Alberto, vada noi ad aprile si viene, perché poi nel resto d'Europa c'è l'Europa unita, ma poi ognuno fa come gli pare. Nel resto d'Europa le vacanze per esempio sono distribuite nell'arco dell'anno. Per cui i tedeschi e olandesi cominciano ad arrivare qui ad aprile, la recettività alberghiera qui comincia ad aprile fino a fine settembre. Gli italiani li vedi solo le due settimane di ferragosto, il resto della stagione lavori con questi amici stranieri, ma benvengano. Quindi dobbiamo anche noi imparare a usare il nostro territorio in una maniera più ampia, più intelligente, più aperta, più curiosa? Bisogna imparare a rispettarlo, perché se lo sfrutti e basta è destinato comunque a eserirsi, cioè non c'è alternativa. Il problema è che le varie amministrazioni si occupano di tutto forché di recuperare poi l'ambiente. In realtà sarebbe molto semplice, non è che c'è bisogno di grosse scelte, bisognerebbe limitare il periodo di pesca a certi periodi, diminuire le cose. Il rispetto delle regole aumenta anche la bellezza di quello di cui possiamo godere. Oltretutto è un patrimonio che si rinnova, è destinato ad aumentare se viene rispettato e quindi poi incrementa a se stesso, cioè questa ricchezza è destinata ad aumentare. Il dramma è che si sfrutta e basta. Qui c'è un progetto per distruggere tutto e farci un porto turistico nuovo, è un peccato. Il porto turistico prima di tutto bisogna vedere le opere per quanto tempo vanno avanti, poi tutta questa cementificazione esagerata che impatto avrà poi sul golfo. e poi per poter accedere è una viabilità nuova da fare, quindi strade da allargare, parcheggi da fare, servizi da fare, cioè diventa un... Fuggiamo dal cemento per poi ritrovarci. Per rifarcelo, esatto. È un peccato perché è una nicchietta e per pochi intimi godiamone tutti un pochino meno ma che siano più persone. Se cominciamo a cementificare strade, parcheggi, qua diventa una tragedia. Ci sono anche dei relitti in questa zona? Qui davanti è pieno di relitti, ce ne sono più di 150, tra la prima e la seconda guerra mondiale, che sono quelli fruibili, perché poi in realtà ci sono anche quelli di epoca romana ed etrusca, ma impossibili da... cioè vengono scoperti, vengono fotografati, viene raccolto tutto il possibile, tutto il possibile, poi vengono ricoperti con i sacchetti di sabbia perché sono un bene troppo prezioso e hanno paura giustamente che la gente li rovini. Però anche qui, una volta, qualche anno fa, si provò a fare un progetto con la sovrintendenza di beni archeologici e inventarono un progetto, lo chiamarono Adotta un relitto. In realtà l'idea era eccezionale perché ogni diving che lavorano tutto l'anno siamo un 2 o 3 e basta. L'idea era di assegnare un relitto antico, parliamo di roba etrusca, roba romana, a ogni diving che era l'unico autorizzato a portarci le persone a fare immersione ed era l'unico autorizzato a farci una sorta di vigilanza. Però poi alla fine, sempre per motivi economici e commerciali, hanno cominciato a dire ma se lui, allora anche quello, non se ne è fatto più di nulla. Però in realtà sarebbe stata una cosa molto bella da realizzare, anche perché sono tanti le relitte antiche. Invece su quelli prima e seconda guerra mondiale, anche lì non c'è chiarezza sull'importanza storica di queste navi. Per cui nel marasma generale si continua a farci immersione, in realtà forse sarebbe anche vietato. Però nessuno solleva il problema e allora finora è ancora tutto abbastanza fruibile. Che emozione dà trovare o vedere o curiosare dentro un relitto? Eccezionale, la prima volta ti leva il fiato, perché sott'acqua dopo i 15-20 metri è tutto verde, blu-verde, insomma. Quindi finché non ci sei davanti non lo riconosci il relitto. Quando poi lo vedi, che lo inquadri, ti leva il fiato. La prima volta è un'emozione unica. Il cuore perde un colpo, cioè si ferma tutto e resti lì, anche che poi ti rendi conto di quanto sono grosse queste navi. Noi siamo ora qui in Porticciolo, qui c'è barchi di 6-7 metri. Io parlo di navi di 60-70-80 metri. Sono più grosse dei traghetti che portano, tanto per fare un paragone, i traghetti che si usano per andare all'elba. Ora, già ti senti piccolo lì quando sei accanto, che ci devi salire, che galleggia. Quando ci arrivi... No, è vero, perché uno si avvicina al traghetto e dice, mamma quanto è grande. Sott'acqua poi è enorme, poi sembra sempre che ti crolli addosso, poi in realtà non è così. Però è una bella emozione. Poi, stireliti ce n'è due molto grossi, a 80 metri di fondo, cioè si entra dentro il fumaiolo, si entra nella sala macchina, cioè i motori che sono dai condomini, insomma. Ci vogliono delle cautele, però. Sì, questi su San Vincenzo vanno da 20 metri fino ai 100. Ora, nella fascia fino ai 40 e subacqua ricreativa, diciamo, sono abbordabili più o meno a tutti con un po' di esperienza, un po' di tranquillità. Insomma, quelli oltre 40 metri è una fascia riservata ai subacquei più esperti con una formazione più particolare, più approfondita, più specialistica, esatto. Allora, via via che il subacqueo si evolve, che lo porti più profondo, allora poi si affinano anche le tecniche poi per entrare dentro reliti, perché... Cioè, devi pensare che quando c'è l'attrezzatura addosso, c'hai altri 40 kg di attrezzatura sulla schiena, c'è un ingombro maggiore. Non è detto che se entri da una parte, poi tu riesci anche a uscire. Non sempre ti può girare su te stesso, non sempre può tornare indietro, se ti impigli... Quindi bellezza e sicurezza vanno insieme. Esatto, cioè il pericolo è sempre in agguato. Questo è in agguato per strada, quando si attraversa le strisce pedonali. Ora, uno tira fuori le statistiche, dice, sono maggiori gli incidenti per strada di gente investita sulle strisce pedonali più sono gli incidenti subacquei. Sì, beh, bisogna anche vedere l'incidente sulle strisce pedonali perché l'ha fatto, perché sott'acqua non c'è l'ubriaco che ti viene a investire, capito? Però, sott'acqua, se succede qualcosa, è per colpa tua, capito? Cioè, sei stato disattento, non hai preparato la sua attrezzatura, sei stato disattento su qualche cosa, quindi... una grossa responsabilità, comunque, è sempre del subacqueo, ecco. Comunque il mare è un mondo sicuramente bellissimo da valorizzare di più, da conoscere di più e da vivere con esperti. Sì, assolutamente, perché da solo l'improvvisazione non è mai una cosa fatta bene. In montagna i sentieri sono segnalati, c'è il CAI che si occupa di segnalare quelli più facili, quelli più difficili, ci sono le guide alpine, c'è chi si occupa. E sott'acqua è lo stesso, il mare è lo stesso, non puoi arrivare... Te hai mai visto nulla, prendi un gommone a noleggio perché lo puoi fare, paghi, metti in moto e parti, cioè ci sono delle leggi, delle norme, delle regole che devono essere rispettate e se no rischiamo tutti quanti di farci del mare. Per concludere, cos'è il mare per te? Per me in questo momento è la mia vita, è un amore infinito e speriamo di tenerlo così, ma ancora per tanto, insomma, ognuno nel suo piccolo fa quello che può, dove si arriva, insomma, va bene? Grazie A voi, ciao! Grazie 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 Grazie